Questa mattina si conclude il ciclo di conferenze organizzato dall'Istituto Parentuccelli sul tema della legalità. Questa mattina c'è un ospite d'eccezione, Giuseppe Antocci, il presidente del Parco dei Nebrodi, che ha subito un attentato mafioso per aver smascherato un sistema di appalti per cui la mafia recepiva dei fondi europei che poi indirizzava verso attività criminose. Antocci ha subito un attentato, ne è uscito il leso e adesso gira l'Italia, incontra gli studenti per testimoniare i valori della legalità. Scrivere questo libro, raccontare questo libro dal giornalista Nuccia Anziano non è stato facile, c'è un pezzo di vita, un pezzo di cuore, però c'è una bellissima cosa che è una partita vinta contro la mafia. Noi abbiamo attivato un protocollo di legalità, poi diventata legge dello Stato il 27 settembre 2017, che non solo ha tirato fuori una vicenda brutta dove si evidenziava in maniera chiara ed inequivocabile che la mafia si finanziava con i fondi europei per l'agricoltura, ma abbiamo anche creato una grande squadra Stato che sta agendo, attivando la legge con arresti, sequestri di beni e stiamo ridando agli agricoltori, agli allevatori per bene, un po' in tutto il paese, quello che era la loro dignità. L'iniziativa è stata fortemente voluta dal vicepreside dell'Istituto Massimo Caleo, che nel 2016, durante il suo mandato al Senato, diede per primo nell'aula di Palazzo Madama la notizia dell'aggressione mafiosa subita da Antoci. Oltre agli studenti, presenti i ragazzi di Libera e tanti cittadini, uniti in un comune impegno contro ogni tipo di mafia.